Quindi io cosa faccio qua? Tu rimani qua, intratteni tu. Oh, Maron. Sono... No, ma torno tra due minuti. Eh, come faccio a diventare pelato? In tempo zero. Prendiamo dello scoptex. Prendiamo dello scoptex. Qua, frate. C'è la live. Sono il nuovo Dunkle. L'altro l'ho fatto fuori. Ho fatto fuori la concorrenza. L'hai fatto fuori? La concorrenza va a farlo. Ma è lui? Sono io. Ma mica, mi hai detto che l'ha fatto fuori. È un problema, mica, l'ha ammazzato. Non è il Dunkle. No. Bastina, fai le mie feci. Sì. E io vado. Così, devo sembrare pelato. Ma stai qua tutti i 250 le ore. Dormi, dormi qua. Eh, io, sì. Adesso sono il Dunkle. Cioè, devo fare film. Sì, 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 sì. Sul divano. Da dietro. Gira tutto? Sì. Devo girare la cam. Cioè, siete in live da 253 ore di fila? No, da quant'è siamo in live, ragazzi? Eh, mi sono dimenticato. C'ho una certa età. Ah, 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 ah. Hang, hang. Eh, dove che devo guardare? Quanti giorni siamo in live. 86. E mi hanno scendito di troppo. Devo stare così anche, allora. Cioè, così. Ah! Devo fare il Dunkle. E cosa si fa qua? Si parla di... Di tutto? Di tutto, sì. Prendiamo la gente. Facciamo un buon gioco. Bastina, giochiamo a nascondini. In cucina puoi fare Tana libera tutti e vinci. No, finitela. Ah! Va bene. Dove potete essere Dunkle finché non torna. Quei così la chat... E quindi sei pelato. Si, ora sono pelato. Pelato. Ragazzi, io non ho i capelli. Questa qua è... Facci lui! Facci facilissimo! Ah, è vero! Meglio, meglio, meglio! Meglio! Sei chiarino! Chiamo alla follia! Prendiamo una cochecca. Mi devo far pagare però se devo stare qua. Intrattieni però. Eh ragazzi, io sto intrattenendo. Questo è un intrattimento serio. E guardate qua che c'è un... C'è un... Guardate. C'è un accendio di pelata qua sopra. Vai a dietro, va. Ma che accendio ce l'hai tu? Perché... No politica, no politica. No ragazzi, non vado in cucina. Finito. Sono co... Guarda come scorga. Adesso la figlia. Ma tu hai iniziato dopo Omiatol? Io? Eh. Quando è che hai iniziato Dunkle, raga? Come è Dunkle? Quando è che hai iniziato Dunkle? Chi? Perché devo rispondere per Dunkle o devo rispondere per me? Rispondere per te? Io ho iniziato di recente, ma perché... Sì. Di recente ho iniziato. Dopo Omiatol? No, dopo il cabrone, perché il mio amico, il cabrone, mi ha detto di iniziare. Il mio amico è il che ha il suggerito di iniziare. Come si chiama? Il cabrone. Il cabrone? Sì. E chi è? E... E' lui che ha il suggerito di iniziare. La mappolìa! Ok, adesso sono io. Adesso torno branco e mi trovo i capelli. Ora sono molto pelato. Ah! Allora, così. Ah, senza un dito. Senza un dito anche. Ah, bene, bene. Ah! Questo l'ho letto, questo l'ho letto. Sbam! Sbam! Devo fare così. Cioè, devo dire, fare tutte le gag di Dunkle adesso. Devo fare tutte le gag di Dunkle per essere... Ma scusa, ma se tu dici, non puoi fare una roba che tipo uno si collega e ti metti a parlare? Tipo come Instagram, le dirette, quello di me. Sì, sì, può fare, sì, può fare, sì, può fare. Quanto stagione ci sono in questo momento? Ehm, 530 c'è scritto. Qui tanti, ma li comprati? Ma non è lui. Vabbè, sono soci. E' pelato adesso. Il capo è pelato, io sono un co-lippello. Ora sono tornato io, sono tornato io a resta. Quando faccio così sono io. Ma tu hai anche un tuo canale? Sì, sì, anche un mio canale. Più piccolo però. Pastino in brodo. Che succede? Dove è finito Dunkle? C'è il pericolo? Non alle botte, non alle botte chat. Io mi faccio i cazzi miei. Come sempre. D'altronde. Mi sa che fanno un po' chiudo dentro. È proprio il sigillo, non mi facevi entrare nessuno, nemmeno Dunkle. Mi prendo possesso della vetrina. Prendo possesso. Ma che merda? No alla violenza. Quando è che rimane al dance? No alla violenza. Che devo andare con lui. Devo andare a fare segnala. Io ho un po' paura. Che ragazze chiede un cellulare lilla? Ehm. Possibile? Sì. Te fidi? Ok. Alla porta. Sì. Eccolo qua. E' lui? Sono io il pelato adesso. Sono io il pelato. Ok siamo rientrati in chat. Hang hang. Pelato del gas. Non vado da nessuna parte. Devo spezzare... Come ha detto Landward? No prendiamo le distanze se le ha dette. Chiediamo il bar. E' pronto pronto. E' possibile. No non urlo tranquilli. E' stato consegnato in buone mani il telefono. Come c'è anche Vic? Mazzò. Che festone. Ma io sto bene in furta le feste. Devo aspettare il gabbo. E che poi io devo... Non lo so. Io vorrei tornare a casa. Io non c'ho voglia di fare serata stasera. Chi c'ho voglia di fare serata? Per me ho già fatto abbastanza. Per me. E andrei a casa. Alsterete il computer. Fino alle 8 del mattino circa. E vi vado a dormire. Che ne dite? Buonasera. Salve. Salve ragioniere. Devo dire. Salve ragioniere. Devo fare tipo salve ragioniere. Una roba del genere. Non lo so cosa devo fare. Che sei un vampiro. Si un po' si. Sono un po' un vampiro ultimamente. Ma scusa. Ma chi è quella che fa la veda tutta la prima? No la mia amica. Ah la tua amica? Si si si. Ma tu anche abiti qua? No no. Io abito in un'altra parte. Sono qua. Sono amico di Dan. Di Daniele. Ma in chat cosa dicono? Non so mi dico di andare in cucina. Ma io non vado in cucina. Me ne sto per bene qua. E' lato del cazzo. Si si. Mi sono scrivendo anche di stare. E tu devi andare in cucina. Io non ci voglio andare. Noi siamo pacifici. Mi ha fatto consegno. Noi siamo assolutamente pacifici. E' lato del cazzo. Gesù. 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 Gesù.